Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e nel canale di Lucy & Rosy Fashion Channel Oggi è il mio primo video unboxing e voglio unboxare con voi due cupcake surprise e una gelato surprise Iniziamo! Allora, per prima cosa voglio unboxare con voi questa cupcake surprise Apriamo Allora, profuma di vaniglia e quando l'apri diventa una principessa Eccola qui E questo è il suo cappellino Aspettate Ecco qui Vi piace? E questa è la checklist Con tutte Questa è la checklist dei profumi che ci sono Vaniglia, cioccolato, fragola, caramello, insomma così eccetera eccetera E qui tutte quante Le cupcake surprise Poi la seconda è questa Che profuma di fragola Ecco qua Le istruzioni La checklist, insomma Questa è la principessina E ora ne metto il cappellino Perfetto Perfetto Olè Vi piace? Poi quest'altra È la gelato surprise Questa è gigantesca E profuma di cioccolato E ha anche una spazzolina Questa è la spazzola E poi Questa è la gelato surprise Guardate che carina A me piace un sacco E mettiamo anche a lei il cappellino Eccola qui Vi piace anche lei? E quindi che dire Spero che questo video vi sia piaciuto Se sì Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per ricevere sempre tutte le notifiche E Lasciate un bel like E quindi che dire Questo è Dalle mie due cupcake surprise Dalla gelato surprise Da me e Rosy Questo è tutto Un bacione Ciao